La provincia di Padova è il consorzio Bimpiave insieme per diffondere l'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione. La provincia di Padova sono anni che investe molto nel settore dell'informatica perché crede veramente fermamente all'innovazione tecnologica. E oggi c'è una grande occasione, c'è quella di mettere insieme due enti importanti che hanno grandi competenze e quindi con una sinergia fra enti creare quella serie di iniziative sul territorio volte proprio a diffondere questo nuovo modo di amministrare, cioè quello di un'amministrazione online che rende proprio più trasparente, più efficiente e soprattutto più semplificato l'interamministrativo. Mi pare che sia giunto il momento di condividere queste esperienze a favore dei cittadini e delle imprese con una informatizzazione spinta dei nostri enti locali come dice il codice dell'amministrazione digitale in modo tale che si possa davvero ottimizzare le modalità di lavoro della pubblica amministrazione ed essere in grado, come richiedono i tempi moderni, di interloquire con cittadini e imprese per via informatica.